Eccoci pronti alle 20, il match di Gatua, semifinali del Scudetto mentre Verugia è avanti 2 a 0 su Monza, il match è giocato ieri, Trento che ha vinto al tie-break, una grande partita contro Civitanova, stasera ci riprova ma dall'altra parte, eccolo qui, Civitanova che è pronta a ribattere la squadra che ha vinto l'ultimo Scudetto due anni fa perché lo scorso anno non si è assegnato, è una grande partita con tanti campioni, da Osmario Valtoreno a Decepolo, a Simone Gagnetti, anni Mirapida Razzese ma non solo loro, certo Riccardo Lucarelli ha fatto una prestazione grandiosa nel match di Gara 1 alle 20 su Nice Sport.